Come si approva il 31 luglio? Non è apprezzabile dell'opposizione seppur in una dialettica dura e franca, quindi io sono molto soddisfatto perché questo passaggio serve per mettere sempre di più in sicurezza la città. Quindi oggi viene premiato ancora una volta un lavoro durissimo che in queste ultime settimane ha fatto non solo l'Aggiunta ma l'amministrazione della nostra città, tutti gli uffici che li voglio ringraziare perché hanno fatto un lavoro davvero importante. E sottolineo anche, perché qualcuno l'aveva messo in dubbio, una forte coesione della maggioranza, quindi questo è il tema che non c'è nessuna fibrillazione, nella nostra maggioranza c'è dialettica e c'è sempre un confronto per trovare il punto di equilibrio più alto nell'interesse della città.